Arrivano le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi martedì 22 gennaio 2019 Si appresta ad iniziare una giornata interessante e alquanto particolare. Scopriamo subito cosa aspettarci e i consigli del celebre astrologo dei fatti vostri Oroscopo martedì 22 gennaio 2019. Ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine.Ariete. Attenzione ai rapporti con le altre persone Avrete voglia di uscire fuori da situazioni che non vi garbano più. Questo è un periodo impetuoso Toro. A causa della luna dissonante, in questi giorni siete affaticati. In amore, cercate delle soluzioni a livello emotivo Gemelli, Paolo Fox, all'interno del suo oroscopo del 22 gennaio, invita ad essere più caldi in amore Chi ha dei dubbi in questo campo, dovrebbe cercare di risolverli. Da febbraio, le cose si faranno più semplici Cancro. Qualcuno potrebbe essere stato messo in discussione nel lavoro a causa di Marte e Mercurio dissonante Chi lavora in proprio avrà dubbi sull'attività, e non sa se portarla avanti o meno Leone, avrete difficoltà solamente a livello economico. Mancano le risorse per intraprendere quei progetti a dir poco faraonici che avete Per i single, oggi è il momento ideale per trovare l'amore.Vergine. Sarete stressati e affaticati, dunque, sarà necessario fare una piccola pausa di riflessione Le stelle prevedono che da mercoledì ritroverete la stabilità persa.Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2019, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci Bilancia? Avrete Saturno in una posizione particolare, e ciò porterà ad avere delle conferme, e delle nuove responsabilità Fate le cose con calme, per ora fatevi andare bene quello che c'è.Scorpione, è giunto forse il momento di fare delle selezioni ad occhi in amore e in amicizia Sagittario. L'oroscopo di Paolo Fox del 22 gennaio 2019 svela una giornata importante per avviare nuovi progetti, ma superate la pigrizia perché questa creerà delle serie difficoltà Capricorno, avrete un forte desiderio di realizzare qualcosa di concreto. Ciò vi spingerà a scalare la vetta per arrivare lontano Se, nei giorni precedenti, ci sono stati dei problemi, ora è il momento di cambiare Acquario, la vostra vita sta cambiando e qualcuno potrebbe vivere tale variazione con afflizione State maggiormente attenti alle relazioni.Pesci, chi è fidanzato o sposato, in questi tempi non ha granché voglia di amare, ma anche se il 2019 è partito male Questo è un anno importante